Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel solito, usuale, disordine della mia libreria. Allora, 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 cari signori, torniamo a parlare in questo video di cose serie, e sarebbe anche ora. Perché da questa dispensa di aerei nella storia, ovvero sia prototipi della regia aeronautica del gennaio 2007, e del dicembre 2007, scusate, dicevo, parliamo di un aereo decisamente molto poco conosciuto, di un prototipo quasi sconosciuto, di un prototipo molto poco noto, e che quasi nessuno conosce. Perché parliamo di un aereo da caccia, il Piaggio P119, questo è l'unico prototipo costruito, questo è uno spaccato. Come si nota, il motore radiale Piaggio è piazzato in fusoliera, in posizione centrale, alle spalle dell'abitacolo del pilota. Perché in Piaggio, si impianzò l'ingegner Casiraghi, pensò di copiare la soluzione costruttiva dell'Aeracobra, del Bell P39 Airacobra. Allora, sapete bene che il Bell P39 Airacobra fu tutt'altro che un aereo esaltante. Era un aereo che, allora, l'idea del motore centrale, con l'albero del motore centrale, alle spalle del pilota, con l'elica azionata da un albero motore prolungato, insomma, avrebbe dovuto garantire teorici vantaggi di baricentro, stabilità e di facilità di pilotaggio. In realtà, come ben sapete, il P39 era un aereo tutt'altro che esaltante, anche se usato come andava usato, era un aereo in grado di fare dannatamente male al nemico. Era un aereo che, se usato a dovere, era tutt'altro che male. Chiedere ai russi, per esempio, chiedere soprattutto ad Alexander Pokryshkin, che il grande asso russo, insomma, conseguì praticamente quasi tutte le sue vittorie proprio sul Bell P39 Airacobra, fornito con il programma Land Lease dall'America agli Stati Uniti. E ricordiamoci anche una cosa, che gli americani svilupparono il P63 King Cobra, un affinamento, un miglioramento, un grande miglioramento del Bell P39, che in mano ai russi ottenne eccellenti risultati. Allora, dicevo, l'idea del caccia a motore centrale. Questi sono alcuni dei progetti, alcuni degli spaccati tecnici relativi al Piaggio P119. Come vedete, un caccia dalla linea molto aerodinamica, molto affusolata, insomma, un bel aereo a vedersi, con la capottina, con il tettuccio, a visibilità totale, con un buon armamento, le prestazioni previste erano eccellenti perché si parlava di una velocità massima di 620 km orari a 5500 metri, si parlava di una salita a 4000 metri in 4 minuti e a 5000 in 5 minuti, una tangenza pratica di 12.000 metri e un raggio d'azione di 780 km, insomma, con un armamento di un cannone da 20 mm e 4 mitragliatrici da 12,7, insomma. Se questo aereo fosse stato costruito, sarebbe potuto diventare un eccellente caccia, ma, 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 ma ne fu costruito un unico, ne fu costruito un unico prototipo. Allora, i primi rullaggi di questo, allora, l'aereo, come ho già detto, aveva una vaga somiglianza, diciamo, aveva una vaga somiglianza e di una forte ispirazione concettuale da parte del bel P39 Airacobra, però, come ben si nota in queste foto, come ben si nota in queste foto, scusate, ecco, questo è l'incidente che poi costerà all'aereo una prematura fine, dicevo, come ben si vede dalle foto, il carrello è di tipo tradizionale, con il ruotino in coda invece del triciclo anteriore, come il bel P39, come il bel P63 che incopra. Dicevo, il prototipo della Piaggio ebbe una vita piuttosto breve e piuttosto tormentata. Come ci spiega Nico Sgarlato nell'articolo relativo al P119, l'ingegner Giovanni Casiraghi pensava che la soluzione del motore centrale potesse conferire una aerodinamica migliore all'aereo. Oggettivamente l'idea non era neanche campata in aria, ma dato che la Piaggio disponeva solo di propulsori radiali, i motori Piaggio erano soltanto motori radiali e oggettivamente non era neanche che fossero un granché, per informazioni chiedere al Piaggio P109 e a Regiane 2000, insomma, i motori Piaggio, i radiali Piaggio, si sa bene che non erano propriamente allo stato dell'arte. Potenti erano potenti, ma ripeto, tolleravano, come ho detto più volte nel corso dei miei video, in diversi video, i motori Piaggio tolleravano estremamente male le manovre brusche della manetta. La manetta del gas nei motori Piaggio andava dosata con estrema attenzione, estrema cautela, grande prudenza e grande cura, perché sennò si ingolfavano, si piantavano e tu cascavi giù come un sasso. Più o meno quello che accadde a Bruno Mussolini quando si uccise, quando morì in quell'incidente aereo nel 1941 con un Piaggio P109 su cui stava conseguendo l'abilitazione. Bruno Mussolini morì perché cercò di dare gas al suo bombardiere, al suo aereo in fase di atterraggio, ma ahimè i motori si piantarono miseramente proprio perché i motori radiali Piaggio tolleravano molto male l'uso brusco della manetta. Se tu acceleravi troppo violentemente il motore si piantava 90 volte su 100. Che vi devo dire? Comunque sia, dicevo, l'ingegner Casiraghi decise di studiare questa formula del motore radiale centrale in fusoliera con albero dell'elica prolungato, come il bel P39. Allora, lo studio del P119 iniziò nel 1938 e si giunse nel 1939 ad un ordine del Ministero dell'Aeronautica e diciamo, allora, il 18 marzo 1939 l'idea del P119 fu sottoposta al Ministero dell'Aeronautica. Chiedo scusa, mi sono impappinato, abbiate pazienza. Dicevo, 18 marzo 1939 il Ministero dell'Aeronautica riceve la proposta Piaggio per il P119. Ma l'ordine per un prototipo arrivò soltanto il 2 giugno 1941 e l'ordine del 2 giugno 1941 prevedeva un simulacro e un prototipo. Il progetto definitivo era passato da Casiraghi all'ingegner Mario Valli all'inizio del 1941. Allora, si trattava di un caccia di concezione piuttosto moderna struttura e rivestimento interamente metallici e, ripeto, aveva un motore radiale che doveva essere un P22RC102V da 1700 cavalli ma, ahimè, questo motore non fu mai disponibile fu cambiato con un P15RC60 Uragano sempre da 1700 cavalli ma, in pratica, si montò un P15RC45 da 1500 cavalli insomma, 200 cavalli in meno perché non si riusciva ad avere, come dire motori più potenti la piaggio non riusciva a sviluppare i suoi motori più potenti Allora, i primi rullaggi si svolsero tra il 12 e il 16 novembre 1942 all'aeroporto di Villanova d'Albenga provincia di Savona la casa, si può dire, della piaggio aeronautico il luogo, l'aeroporto dove effettuarono la maggior parte dei voli di prova tutti gli aeroplani costruiti dalla piaggio o tutti gli aeroplani motorizzati piaggio compreso il piaggio P109 Allora, dicevo il 19 dicembre il prototipo, l'unico prototipo costruito la matricola militare 497 pilotato da Nicola Olana fece il primo volo 19 dicembre 1942 L'attività sperimentale fu difficile perché oggettivamente l'aereo dava dei problemi ripeto, la sistemazione centrale di un motore radiale raffreddato ad aria qualche problemino qualche problemino di raffreddamento sicuramente lo dava e soprattutto ricordiamoci la bizzosità la notoria bizzosità e la scarsa trattabilità dei motori dei motori aeronautici radiali piaggio quindi i collaudi del P119 furono intensi ma diciamo forzatamente intermittenti perché l'aereo dava dei problemi vibrazioni all'albero dell'elica prolungato problemi di raffreddamento al motore radiale raffreddato ad aria sistemato in posizione centrale questo è un esemplare questo è il prototipo questo è il castello motore questi sono i piani di coda con la struttura di fusoliera e questo qui è l'aeroplano prima che ci montassero il motore insomma l'aereo esteticamente era bello era un aereo diciamo anche interessante a livello teorico poteva essere una buona idea ma 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 qui entrano sempre in ballo i soliti problemi dell'industria aeronautica italiana durante il secondo conflitto mondiale l'impossibilità pratica di costruire aerei perché mancavano materie prime perché c'era un'eccessiva frammentazione c'era un'eccessiva frammentazione delle risorse disponibili le risorse disponibili si disperdevano in tanti rivoli diversi e soprattutto in inutili doppioni cioè rendiamoci conto nel 1943 con l'acqua alla gola o anche più su e non era solo acqua diciamoci la verità siamo andati a voler far mettere in produzione tre tipi diversi di caccia che non avevano praticamente niente in comune fra di loro alla faccia della standardizzazione cioè i caccia della serie 5 per quanto belli per quanto interessanti per quanto finalmente all'altezza della produzione straniera per prestazioni e armamento al posto di costruirne un solo tipo ne andiamo a costruire tre tipi diversi alla faccia della razionalizzazione alla faccia delle necessità contingenti della guerra cioè Regiane 2005 uno dei miei aerei preferiti oggettivamente Machi MC205 e Fiat G55 come dire andarono a fare a cagnara fra di loro per ricevere insomma per le risorse per costruirli e si vedono i risultati poco più di 100 poco più di 100 G55 costruiti 25 Regiane 2005 e un centinaio circa di Machi 205 insomma gente eh 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 credo che i numeri siano più che eloquenti in proposito il Piaggio P119 rimase un prototipo unico questo è uno spaccato dove si notano le soluzioni costruttive dove si nota soprattutto eccolo qua il motore Piaggio in posizione centrale il il motore cioè il motore Piaggio il P15RC60 a due valvole teoricamente era un buon motore in pratica aveva tutti i classici difetti dei i classici arcinoti difetti dei radiali Piaggio scarsa affidabilità ripeto ripeto per l'ennesima volta una scarsa tolleranza all'apertura e chiusura brusca delle manette del gas una inaffidabilità eh che non fu mai superata insomma ripeto ci mancava il tempo ci mancavano le risorse ci mancavano le capacità tecnologiche per superare per superare questi problemi tutto qui il ripeto il Piaggio P119 ebbe come dire ebbe una breve e intermittente attività sperimentale a causa dei problemi guidato da Nicolo Lana allora il 2 agosto 1943 come vedete in questa foto in questa foto e in quest'altra foto il P119 ebbe un lieve incidente in atterraggio niente di serio succede il monumento il pilone come viene chiamato in gergo era un incidente diciamo molto frequente era un tipo di incidente molto frequente nei campi d'aviazione in erba dell'epoca e non solo quelli italiani tanti aerei si sono impuntati di muso e si sono danneggiati però come dire l'unico prototipo esistente del P119 ebbe questi lievi danni il 2 agosto 1943 mentre lo si stava riparando arrivò ahimè l'armistizio arrivarono i tedeschi il prototipo fu quasi sicuramente distrutto dalle maestranze della piaggio per non farlo cadere in mano ai tedeschi e così finì la storia di quello che poteva diventare l'Eira Cobra italiano un aereo dalla struttura come dire un aereo dalla struttura interessante un aereo che avrebbe potuto come dire essere in essere in grado di fare buone cose perché era aveva un eccellente armamento poteva diventare un buon cacciabombardiere perché poteva portare anche 250 kg di bombe ma i problemi relativi allo sviluppo di una macchina così complessa di una macchina così innovativa non furono mai superabili ripeto il motore il principale problema il bizzoso motore della piaggio sistemato in posizione centrale dietro al fusogliere del pilota qualche problema di raffreddamento era assolutamente inevitabile che ce l'avesse data l'architettura così si allargarono i flabelli si allargarono le prese d'aria si studiò un sistema simile a quello del Focke-Wulf 190 con una ventola supplementare per il raffreddamento insomma si studiarono tante cose per il piaggio P119 Nicololana effettuò diversi voli col P119 e disse che insomma i resoconti dicevano che si trattasse di un aereo dal comportamento in volo tutt'altro che malvagio logicamente si trattava di un unico prototipo preziosissimo di un aereo immaturo quindi non gli si poteva tirare il collo fino in fondo perché era tutto nuovo in quell'aereo e il P119 servì anche come base per quello del piaggio P129 che però montava un propulsore in linea un Daimler-Benz 605 nel muso con con le con la con la sistemazione tradizionale ovvero sia con l'elica nel muso cioè con il motore nel muso senza albero prolungato per l'elica il progetto il progetto del P129 costò alla piaggio 1790 ore di attività dei disegnatori fu sottoposto al ministero dell'aeronautica come concorrente per la specifica di quella che poi divennero i caccia sedia 5 ma non ne fu ordinata la costruzione perché oggettivamente il ministero dell'aeronautica forse per fortuna non era interessato perché di sprechi ce n'erano già abbastanza insomma il P119 un aereo un aereo rimasto esemplare unico un unico prototipo ne fu costruito eccolo qua ripeto la struttura di coda e il il caccia senza motore sullo stadio sulla sul castello per il montaggio e insomma come dire fu uno dei tanti 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 troppi aerei che non ebbero né fortuna né sviluppo perché anche in questo caso anche in questo caso come nel caso del piaggio P109 del bombardiere quadrimotore si era fatto il passo troppo più lungo della gamma l'idea di ottenere un caccia aerodinamico e filante pur con un motore radiale era intelligente era una poteva essere una buona idea teorica ma messa in pratica si rivelò foriera di problemi poi ripeto 2 agosto 1943 il pilota Nicololana ebbe questo lieve e banalissimo incidente in atterraggio eccolo qui una seconda foto e il piaggio P119 non volò mai più perché non si fece in tempo a riparare ripeto quando arrivarono i tedeschi il P119 fu distrutto e i tedeschi ordinarono la distruzione la demolizione di quello che ne rimaneva per salvare quello che si poteva usare motore elica eccetera eccetera insomma una buona idea quella del P119 una buona idea ma ahimè un passo troppo più lungo della gamba per la nostra industria aeronautica peccato era un bel aereo a quanto pare secondo quello che scrive secondo quello che ha lasciato scritto Nicolò Lana non volava nemmeno male ma aveva troppi problemi problemi che la nostra industria non aveva le risorse non aveva le conoscenze per come dire sistemare per risolvere non aveva le risorse per far diventare maturo un aereo per far crescere per far maturare per rendere affidabile un aereo estremamente interessante come il P119 dopo questo incidente non se ne fece più nulla la guerra oramai era malamente persa arrivarono i tedeschi e l'aereo fu distrutto per evitare che cadesse in mano loro tutto qua quindi cari signori io come sempre vi ringrazio per l'attenzione come sempre vi saluto di tutto cuore e ripeto per considerazioni valutazioni aggiunte a questo video ci sono i commenti aspetto come sempre i vostri pareri aspetto come sempre che diciate la vostra su questo argomento il piaggio il il piaggio P119 l'aira cobra l'aira cobra mancato eccolo qua poteva essere forse un buon caccia poteva diventare un buon caccia bombardiere ma ahimè rimase solo poverino e decisamente non si riuscì a costruirlo tutto qua quindi ripeto fatemi sapere che cosa ne pensate arrivederci al mio prossimo video e come sempre ciao ciao